Via Libera della Giunta Provinciale al progetto elaborato dal Comune di Bolzano per il percorso cittadino del Metrobus tra Piazza Adriano e Ponte Druso. Oltre un milione di euro di contributo andranno all'amministrazione per i lavori. Viale Druso diventerà in parte una strada a quattro corsie. Questa è una grande iniziativa, una grande opportunità per il Comune di Bolzano per migliorare la viabilità, per fluidificare il traffico per incrementare anche l'uso del mezzo pubblico. La provincia ha concesso un contributo di un milione di euro a questo singolo tratto poi ce ne sono degli altri che sono già in lavorazione e all'interno di questo progetto verranno realizzate come detto le due corsie per i mezzi pubblici che saranno quelle centrali, ci saranno le due corsie laterali invece per il traffico privato ma verrà realizzato anche dei nuovi marciapiedi, una nuova illuminazione e anche una nuova riqualificazione urbana che comprenderà anche degli alberi. È un progetto del Comune di Bolzano in accordo con la provincia quindi noi siamo particolarmente contenti. Firmato dalla Ministra Fedeli il decreto che dà il via libera alla sperimentazione della maturità quadriennale in due scuole altoatesine di lingua italiana. Si comincia già quest'anno all'Istituto Tecnico e Economico Cesare Battisti e all'Istituto Marcelline di Bolzano. È una sperimentazione importante, sono solo 13 le realtà in tutta Italia che partiranno già da quest'anno per noi si tratta di una bella e grande sfida per questo mette ulteriori elementi iniziative insieme al plurilinguismo insieme anche al rinnovo della didattica per la scuola italiana e ci impegneremo al massimo per farla funzionare. Non è un'opzione generalizzata, è un'opzione che richiede anche certamente maggior impegno è un'opzione su cui bisogna essere convinti ma è un'opzione che credo vada sperimentata e di cui vada data la possibilità anche nella nostra terra e di questo siamo contenti. La Giunta Provinciale ha inoltre approvato il programma triennale dell'Agenzia di Vigilanza sull'edilizia. Servizi di controllo verranno offerti in convenzione anche ai comuni. Rimane infine in alerta la protezione civile dell'Alto Adige dopo il terremoto verificatosi a Ischia. La protezione civile è pronta in caso di richiesta ad offrire la massima disponibilità alla Regione Campania.